Andrea Tornielli, responsabile editoriale dei media vaticani e giornalista, autore di molti libri, sicuramente un punto di osservazione della Chiesa particolare, quello che vive ormai da qualche anno in Vaticano e che lo ha portato a scrivere un libro che ci fa avvicinare al Natale perché si intitola La vita di Gesù con il commento di Papa Francesco. Ecco, da un giornalista un occhio storico, diciamo, un occhio anche un po' indagatore sulla vita di Gesù Cristo. Sì, il libro Vita di Gesù racconta la vita di Gesù partendo dai Vangeli ma anche con una parte mia di immaginazione. Ho cercato di ricostruire colori, sapori, stagioni, di datare esattamente gli avvenimenti e anche di dare un nome a tanti personaggi del Vangelo, tante persone che nel Vangelo non hanno nome, a volte anche facendo qualche azzardo di ipotesi sulle loro vite, sulle loro vite precedenti, gli incontri di Gesù. E dunque ho cercato di creare con questo mix una narrazione, anche grazie ai commenti brevi, puntuali, di Papa Francesco, che aiuti a entrare nel Vangelo, che aiuti a incontrare il suo protagonista. E la mia speranza è quello che sia un libro che possa avvicinare anche chi magari non crede, chi non ha una frequentazione quotidiana o settimanale con il Vangelo, perché comunque è la storia di una persona certamente eccezionale, comunque si creda, che duemila anni fa ha cambiato la nostra storia. E' un argomento che non è la prima volta che affronta, perché la storicità di Gesù, cioè il fatto di farlo cadere proprio nel centro della storia, e non solo come un mito, un'immagine un po' mitologica a cui si affidano i cattolici e non solo come guida. Come nasce questa volta questo libro? Che cosa vuole portare in più? Io avevo già scritto dei libri sulla storicità dei Vangeli, erano dei saggi, avevo presentato tante fonti storiche. Questo è diverso perché non è un saggio, è un racconto, che mi ha costretto a entrare nel Vangelo. Diciamo che il cristianesimo è tutto tranne che mitologico, perché è un avvenimento che accade in un momento determinato nella storia. Sappiamo la data, noi persino calcoliamo gli anni dalla nascita di Cristo, anche chi non crede calcola gli anni dalla nascita di Cristo, anche chi non crede la domenica dorme un paio d'ore di più e solitamente non va a lavorare, e la domenica è il giorno in cui si ricorda la risurrezione di Cristo. Anche chi non crede il 25 dicembre festeggia qualcosa e si festeggia il suo compleanno. Dunque, questo personaggio ha comunque influenzato la nostra cultura, la nostra storia, il nostro modo di vivere, di pensare e di costruire la nostra società, i valori su cui si fonda anche la nostra società. E dunque, credo che valga la pena provare a conoscerlo. Il libro è tutto fatto e giocato sugli sguardi, sugli incontri personali, perché il Vangelo e gli incontri di Gesù è una storia che è avvenuta per strada, per la maggior parte dei casi sono incontri che avvengono per strada. Incontri che avvengono per strada e incontri che avvengono con persone che un po' non si aspettavano di incontrare il figlio di Dio, perché non faceva mistero Gesù Cristo, infatti per quello è finito nella croce di essere il figlio di Dio. Si sono dovute affidare completamente a questo incontro e molto spesso questo è avvenuto nelle periferie, ai bordi di un'umanità più ricca, più potente. Sì, la cosa è che in ogni pagina del Vangelo noi vediamo stravolto e sconvolto il perbenismo, le tradizioni, perché Gesù, una delle accuse che gli dicevano, scandalizzati, è costui accoglie i peccatori e mangia con loro, gravissimo. Si sedeva a tavola dei peccatori, entrava nelle case dei peccatori. E dunque c'è tutta un'umanità di scartati, di persone borderline, di persone non a posto, che Gesù incontra perché lui dice di essere venuto per i peccatori, non per i giusti. E dunque lascia le 99 pecore dentro per andare a cercare quella fuori, anche se oggi forse le proporzioni sono esattamente capovolte. E dunque questo messaggio rispetto alla marginalità, alla periferia, che può essere sia geografica ma anche esistenziale, lo troviamo praticamente in ogni pagina del Vangelo. Volevo fare in quella domanda un po' più personale, da qui, dal Veneto, da Chioggia, dalla sua casa, fino ad essere responsabile appunto dei media vaticani. È stato un lungo percorso, una bella avventura. Che cosa ci vuole raccontare di questo? Beh, che io sono molto attaccato alle mie origini, che non dimentico, le mie origini venete. Sono nato a Chioggia, una città di pescatori. E questo mi rende il Vangelo più facile da capire, perché i primi seguaci di Gesù sono quasi tutti pescatori, molti sono pescatori. Il Vangelo avviene in buona parte nelle rive di un lago, che loro chiamano mare di Galilea, ma comunque che mi rende vicino a questo. E sono legato alla realtà di Padua, perché qui ho fatto l'università, a cui ho iniziato a lavorare al Gazzettino, le mie prime esperienze giornalistiche. Poi sono partito, sono andato a Roma, e da lì sono passato per diversi giornali. È soltanto da quattro anni che ho iniziato questo lavoro in Vaticano. Ma, diciamo, da oltre vent'anni, anzi da venticinque anni, seguo i viaggi dei papi in giro per il mondo. L'ho fatto come giornalista e adesso continuo a farlo. Ecco, sicuramente non è un momento facile, è un momento in cui ci sono anche tante tensioni all'interno della Chiesa. C'è stato poi questo grande clamore che ha fatto anche questa rivelazione del Papa, proprio in queste ore, in cui ha detto, ho lasciato le mie dimissioni al momento in cui mi sono insediato. Sicuramente un punto di osservazione particolare, un rapporto particolare con un Papa che quasi non ha bisogno però dell'intermediazione. Decide lui un po' cosa fare, no? Non c'era assolutamente bisogno. Comunica lui, comunica lui direttamente, sceglie lui a chi fare le interviste e che cosa dire. Riguardo la notizia che ha fatto il giro del mondo, circa la lettera delle sue dimissioni preventive, bisogna ricordare che non è affatto una novità, che già Paolo VI nel 1965, dunque meno di due anni dopo essere stato eletto, aveva scritto una lettera dicendo se io resto gravamente impedito per una malattia invalidante che mi toglie la coscienza, dunque non sono più in grado io di dire mi rinuncio, il Sacro Collegio dei Cardinali ha già questa lettera e può decidere di eleggere un nuovo Papa. Comeppure il Papa Paolo VI parlava di grave impedimento, non soltanto legato a questioni mediche, perché bisogna ricordare che già Pio XII durante la Seconda Guerra Mondiale, siccome c'era presente, viva e possibile la minaccia di essere rapito da parte di Hitler, aveva fatto una cosa simile per evitare che una volta Hitler avesse rapito il Papa, avesse con sé il Papa, avrebbe avuto soltanto il Cardinale Pacelli e i Cardinali avrebbero potuto eleggere un nuovo Papa. Dunque vediamo che anche se queste notizie giustamente fanno il giro del mondo, vengono riprese, rilanciate, però è molto importante riuscire ad avere un po' di occhio sulla storia e si vedrebbe che tante novità in realtà non sono novità e che anche tanti Papi del passato, visto anche le conquiste della medicina moderna, hanno pensato in qualche modo una forma di cautelarsi e per il bene della Chiesa di mettere a disposizione il proprio mandato se non sono più in grado di decidere né di intendere di volere. Qualcuno maliciosamente ha detto che però nessuno l'ha usata così un po' politicamente all'interno del mondo della Chiesa spiazzando chi avrebbe potuto contestare il Papa e c'è invece chi ha letto questa cosa? Io ho letto quest'editoriale che ha scritto riferendosi a Papa Paolo VI come forse anche un modo per dire sono pronto anche forse ad espormi di più forse in questa faccenda della guerra in Ucraina forse si avvicina un possibile viaggio del Papa e forse è questo che faceva riferimento? No, non credo che faccia riferimento a questo però certamente il Papa ha a cuore l'Ucraina tantissimo è però a cuore di andare in Ucraina ma vorrebbe accompagnare questo e non disgiungere questo da un viaggio anche in Russia l'ha detto più volte da un viaggio anche a Mosca abbiamo visto credo che fino ad oggi ha fatto più di 100 appelli per l'Ucraina anche molto concreti, dettagliati, specifici chiedendo preghiere, facendo iniziative e anche mettendo a disposizione la Santa Sede per un aiuto certamente purtroppo non dobbiamo arrenderci credo all'ineluttabilità della guerra e continuare a credere e sperare ma soprattutto lavorare con creatività per cercare di arrivare innanzitutto a una tregua e poi a una pace e poi a una pace giusta Ecco, da giornalista, da fedele e anche da responsabile appunto dei servizi, responsabile editoriale di tutta la comunicazione del Vaticano questo libro così a Natale che cosa si auspica che possa muovere che possa far nascere perché è un momento, abbiamo detto, non facile Io mi auguro e spero chi avrà la possibilità di leggerlo che possa avvicinare e incuriosire sulla figura di Gesù provocare e commuovere un incontro con Lui perché oggettivamente il messaggio di Gesù il messaggio di Vangelo è una cosa sempre nuova e che credo risponda e corrisponda ai tanti bisogni in questo momento abbiamo bisogno di trovare qualcuno che ci dice che ci vuole bene prima di giudicarci che ci accoglie prima di guardare a come siamo che ci accoglie così come siamo che ci dice innanzitutto che c'è un Dio che ci vuole bene e che è pronto a perdonarci tutto, tutto, tutto veramente tutto se ci lasciamo abbracciare dalla sua misericordia ecco, questo è il cuore del messaggio cristiano oggi nella società iperconnessa dove crediamo di avere tutte le notizie perché ne riceviamo milioni di informazioni dove tutti si sentono in dovere di commentare su tutto nascosti dietro la tastiera credo che la cosa più importante sia quella di trovare qualcuno che ti ascolti e credo che questo sia il compito del cristiano Papa Francesco la chiama la pastorale dell'orecchio oggi c'è bisogno di qualcuno che perda tempo con le persone innanzitutto per ascoltare per entrare nella vita ecco, il Vangelo è un esempio di questo e di questo grande abbraccio Papa Francesco ha fatto da poco il compleanno sicuramente ne avrà già una coppia sul comodino come regalo li ha appena compiuti 86 sì, ce l'ha, ce l'ha da tempo da appena uscito e ne regala anche ne regala le persone che vanno a salutarlo ecco, qui da qualche giorno fa una bella quantità di libri sono stati regalati a una festa particolare quella della cooperativa Giotto ecco, è una cooperativa che lavora con gli ultimi facciamo un po' fatica ad andare lì dove magari ci sono quelle cose che nessuno vuole guardare come il carcere, le persone che hanno sbagliato sì, il lavoro della Giotto è un lavoro eccezionale che ci mostra che cosa vuol dire essere appassionati alla realtà e aiutare veramente chi ha bisogno e le persone che sono in carcere in particolare sono tra le più bisognose da questo punto di vista io sono legato alla Giotto innanzitutto perché sono compagno ai tempi delle scuole elementari del Presidente Nicola Boscoletto ma la cosa bella e che credo anche renda diciamo così contemporaneo e attuale questo libro nel mondo del carcere questo libro noi l'abbiamo presentato il 27 settembre quando è uscito nel carcere di opera il carcere milanese di opera la presentazione nel giorno in cui è uscito il libro l'abbiamo voluta fare all'interno del carcere proprio per questo motivo perché nel carcere il Vangelo prende spessore e parole come perdono e misericordia diventano veramente reali la pagina che vorrebbe che tutti leggessero magari in questi giorni di Natale ma ce ne sono diverse però forse una dove racconto il modo in cui una mamma che era stata ripudiata dal marito ascolta il discorso delle beatitudini quando Gesù dice beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati e grazie al figlio di 5 anni che gli viene a portare questo messaggio di Gesù perché lei era lontana sentiva solo la parola beati non sentiva le frasi che seguivano si commuove e dice ma davvero queste parole sono anche per me in fondo il cristianesimo è soltanto questo capire che questo messaggio è anche per noi cioè per ciascuno di noi grazie e buon Natale grazie e buon Natale a voi grazie a tutti